No! Balloppo, la missione è semplice, mettere al sicuro più denaro del nemico. Indica un punto di lancio per il nemico. Questo è un buon punto! No! 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 NEMICI, QUI! NEMICI, QUI! NEMICI, QUI! NEMICI, QUI! NEMICI, QUI! Ah! Nemico in discesa nell'area operativa. Wee loader 2, 10, ricevuto. Attacco a grappolo in corso. Cassa di sconto individuale, foglio in sicurezza. Temici qui! Temici qui! Temici qui! Temici qui! Non lo so, non lo so, non lo so. Uapi, nemico in bu- Nemici, qui! Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Ah, fuck! Non lo so. Non lo so. Non lo so. Ostile in discesa nell'area Occhio in alto UAB alleato in zona Sorvolo avviato Prossimo obiettivo localizzato Dispositivo marcato Guido io, venite con me Ostile in discesa nell'area Occhio in alto Occhio in alto Obiettivo principale raggiunto Tutte le casse di scorte trovate Serve a qualcuno? Attenzione Elicoptero da salto delico in arrivo Abbassetelo e prendete il denaro Serve a qualcuno? C'è un venditore Elicoptero da salto delico in alto Aria contrassegnata, attaccate! Qui, Stryker 3, ricevuto. Attacco in corso. Vado qui. Nessun colpo a segno. Nemico in discesa nell'area operativa. L'obiettivo è eliminare il messaggio taglia. Il messaggio taglia è eliminato, ben fatto. Bene. Nemico in discesa nell'area operativa. Ok, capo. Manda pure. Qui, Stryker 3, ricevuto. Attacco in corso. Centro, bel colpo. Ignorate. Soldato nemico in arrivo. Il monstro visione non ve lo ruba più nessuno. Piazza, una carica! Nemici, qui! Era un po Check! I RIA! Nemici, che è un pochettino. Piazza, un pochettino. Piazza, un pochettino. Piazza, un pochettino. Sì. Eccomi, datemi un bersaglio. Ok. C'è un venditore. Piazza una carica. Soldato nemico in arrivo. Soldato nemico in arrivo. Soldato nemico in arrivo. nemico in discesa nell'area operativa cazzo sono ferito ok capo manda pure ricevuto attacco in corso è la mia vendetta con il disceso nell'area operativa centro, ben fuori nemico in discesa nell'area operativa bel lavoro